Il sindaco Manfredi ha consegnato questa mattina a Palazzo San Giacomo la medaglia della città di Napoli ed una targa celebrativa ai campioni del basket della Fidesz Napoli, Manfredo Fucile e Jim Williams. Entrambi sono stati protagonisti di una delle stagioni più belle del basket partenopeo, culminata con la vittoria della Coppa delle Coppe nel 1970. Quando ero ragazzino, bambino, dei grandi successi dell'Ignis, quando Napoli era ai vertici del basket nazionale. Noi ci auguriamo che ci ritorni, già oggi abbiamo una bella squadra in Serie A e speriamo sempre di poter riportare lo scudetto a Napoli. E' anche un'occasione per dare un riconoscimento a due grandi atleti che hanno dato lusso alla nostra città. Chiaramente noi, insomma, il futuro si costruisce sempre dalla memoria del passato. Williams è stato uno degli americani più forti che abbiano mai giocato a Napoli e lo straniero più longevo della storia, avendo giocato qui per sette anni a cavallo tra gli anni 60 e 70 e rimanendo poi legatissimo alla città. Guarda, è un'esperienza che è molto emozionata per me perché sono molto attaccato alla città di Napoli e anche al popolo qua perché sono stati veramente i più forti di fossi nel mondo. Mi ricordo il palazzetto dello sport che non c'è più ormai, ma pieno di gente. E poi i tifosi che urlano, era così forte che non si poteva neanche pensare, capisci? Vivendo qua io ho avuto la possibilità di conoscere un altro popolo, un'altra cultura. Voi avete qua due mila anni di cultura. Manfredo Fucile è il giocatore napoletano con il maggior numero di presenze e punti realizzati in Serie A. È un'emozione indescrivibile, è un sogno che si realizza per quanto mi riguarda perché l'avevo nel cassetto da quando lui è andato via, da 73. Poi l'ho fatto rivenire a Napoli nel 2012, ma era una fugace apparizione e poi volevo sempre rivederlo per godermelo completamente anche perché con lui mi sento quasi sempre di sera via Skype. Grazie.